Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, tempo generalmente soleggiato sulla Liguria, anche se oggi mercoledì abbiamo delle infiltrazioni di aria fresca in quota che favoriscono instabilità sui rilievi, domani giovedì un rientro di aria umida da nord-est con addensamenti sui versanti padani, mentre venerdì avremo ancora correnti settentrionali che porteranno un po' di nubi sempre sui versanti padani, specie in mattinata. Andiamo nel dettaglio. Oggi, mercoledì 29 settembre, in prevalenza soleggiato sulla costa, mentre avremo dell'instabilità sui rilievi con addensamenti associati a possibili locali rovesci o temporali moderati, specie sulle Alpi e l'Appennino di Levante. Venti deboli in regime di brezza sulla costa, settentrionali sui rilievi, mare poco mosso, in aumento a mosso a partire da ponente in serata. Temperature stazionari sia sulla costa che nelle zone interne, le massime saranno comprese tra 25 e 27 gradi. Domani, giovedì 30 settembre, soleggiato sulla costa, con temporanei passaggi nuvolosi, specie a Levante. Locali adensamenti sui versanti padani, in estensione in serata. Venti moderati settentrionali con locali rinforzi sul centro ponente. Mare mosso per onda lunga da sud-ovest in graduale scaduta a partire da ponente. Temperature minime in generale calo lungo la costa, intorno a 16-17 gradi, nelle zone interne tra 10 e 12 gradi. Passime in locale, aumento sulla costa, dove saranno comprese intorno a 27 e 28 gradi, nelle zone interne tra 24 e 28 gradi. Dopodomani, venerdì 1 ottobre, ancora correnti settentrionali associate a nuvolosità diffusa sui versanti padani, specie in mattinata. Indiradamento nelle ore centrali, in prevalenza soleggiato sulla costa, con velature in arrivo da ponente in serata. Venti tramoderati e forti settentrionali in calo, locali brezze a Levante. Mare poco mosso, localmente mosso a ponente, per onda corta da nord-est. Temperature stazionari in lieve calo, specie le massime nell'interno. Le minime lungo la costa, intorno a 16-17 gradi, nelle zone interne tra 10 e 13 gradi. Le massime lungo la costa tra 25 e 27 gradi, nelle zone interne tra 22 e 27 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci! Grazie a tutti!